Benvenuti a Telecrullis, il notiziario nella lingua dei segni, frutto della collaborazione tra l'Assemblea Legislativa dell'Umbria e l'Ente Nazionale Sordi, Consiglio Regionale dell'Umbria. Nella seduta consigliare, che si è tenuta martedì 10 novembre, la Presidente della Giunta Regionale, Donatella Tesei, ha relazionato sulla situazione relativa all'epidemia Covid-19. Parte della seduta è stata dedicata al question time, interrogazioni a risposta immediata. Nella sua relazione all'Aula, la Presidente Donatella Tesei ha detto che l'unico nemico comune ora è il virus. Negli ultimi giorni sono aumentati i positivi, i ricoveri e i ricoveri in terapia intensiva. Si tratta di numeri allineati con la media nazionale, ma le misure di contenimento attuate – e l'Umbria è stata una delle più severe – non riescono a rallentare la pressione sugli ospedali. Come previsto dal decreto rilancio, ha detto la Presidente Tesei, abbiamo potenziato i servizi sanitari, aumentando i posti di terapia intensiva, semi-intensiva e i posti letto complessivi. L'allestimento dell'ospedale militare ci permetterà di aumentare ancora la possibilità di accoglienza di nuovi pazienti. Per la minoranza, il capogruppo del Partito Democratico, Tommaso Bori, ha sottolineato che è necessario lavorare insieme il più possibile con grande senso di responsabilità e senza polemiche politiche. Ringraziamo i cittadini e gli operatori sanitari, ha aggiunto Bori, per i grandi sacrifici che stanno facendo. Siamo la prima regione per tasso di saturazione delle terapie intensive, arrivato al 60%. I posti Covid non sono un ampliamento ma una riconversione, che porta a togliere posti letto agli altri reparti. Al termine del dibattito, in cui sono intervenuti i consiglieri Eleonora Paggio e di Fratelli d'Italia, Stefano Pastorelli della Lega, Andrea Fora del Patto Civico per l'Umbria, Vincenzo Bianconi del Gruppo Misto, Michele Bettarelli e Donatella Porzi del Partito Democratico, Thomas De Luca del Movimento 5 Stelle, l'Aula ha approvato l'unanimità, la risoluzione unitaria, che impegna l'Esecutivo e l'Assemblea Legislativa ad un lavoro comune contro un nemico comune nell'esclusivo interesse di tutta la comunità umbra, richiamando tutte le forze politiche ad un univoco senso di responsabilità, aprendo un luogo di interlocuzione per affrontare e superare l'emergenza sanitaria Covid-19. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato all'unanimità l'atto amministrativo proposto dalla Giunta regionale per l'individuazione degli organismi collegiali, considerati indispensabili e di quelli considerati non indispensabili, proponendo la soppressione di tre organismi e l'abrogazione di due. Il Presidente Daniele Nicchi ha spiegato che la prima commissione ha lavorato per la semplificazione e la razionalizzazione degli organismi regionali, senza sacrificare nessun organismo ritenuto indispensabile nel rinunciare all'efficienza delle strutture. L'approvazione di questo atto, ha spiegato, è solo l'inizio di un percorso, che intendiamo proseguire con responsabilità e determinazione. Nella parte dedicata al question time, interrogazioni e risposta immediata, i consiglieri della Lega Valerio Mancini, Stefano Pastorelli, Paolo Affioroni, Eugenio Rondini e Daniele Nicchi hanno chiesto se la gestione delle zone di ripopolamento e cattura, prevista dall'ambito territoriale di caccia Perugia 1, mediante la costituzione di appositi comitati, in forma di associazioni private non riconosciute, sia conforme alla normativa e alle direttive della Regione. L'assessore all'ambiente Roberto Morroni ha risposto che la Regione ha disposto la gestione delle varie zone di ripopolamento agli ambiti di caccia direttamente o con affidamento in convenzione. Alcuni hanno scelto dei comitati di natura privata senza scopo di lucro e la normativa non prevede ostacoli a questa soluzione. Il consigliere Michele Bettarelli del Partito Democratico ha illustrato l'interrogazione volta ad evitare di far pagare ai cacciatori le quote relative ai danni causati dalla specie cinghiale all'agricoltura, che vanno ad aggiungersi ai consueti pagamenti annuali, i che appaiono in una misura irragionevole. L'assessore Roberto Morroni ha risposto che dal 2021 gli ambiti di caccia avranno più fondi, anche per il rimborso dei danni all'agricoltura. Fino ad allora vale quanto previsto dal regolamento e perché c'è una stretta correlazione fra abbattimenti e entità dei danni che devono essere rimborsati. Il consigliere Tommaso Bori del Partito Democratico ha chiesto alla Giunta quali azioni di breve, medio e lungo periodo intende mettere in campo per irrobustire il sistema sanitario regionale e sostenere i lavoratori in difficoltà e sotto pressione per l'emergenza coronavirus. L'assessore Luca Coletto ha risposto che per far fronte al complessivo fabbisogno di personale sono state adottate specifiche misure per l'uso da parte delle ASL di tutti gli strumenti consentiti per il potenziamento degli organici per la gestione dell'emergenza e per il mantenimento delle attività con lo scorrimento di tutte le graduatorie già approvate, l'avvio di procedure per nuovi fabbisogni, la copertura del turnover con bandi con permanenza per almeno 5 anni. Il concorso pubblico di 325 infermieri dell'ASL 2 è regolarmente in corso. Per il triennio 2019-2021 verranno assunti 1.263 unità a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli e dei tetti. Il consigliere Vincenzo Bianconi del Gruppo Misto ha chiesto all'esecutivo di Palazzo Donini di tutelare il personale e le persone anziane non autosufficienti e maggiormente a rischio ospiti di centri diurni, strutture residenziali e semiresidenziali. L'assessore Luca Coletto ha risposto che da marzo la Giunta ha approvato atti per il potenziamento della rete assistenziale territoriale con la presa in carico dei pazienti fragili. In ogni struttura è stato individuato responsabile per la sicurezza Covid e sono state formate oltre 150 persone. È stato approvato il piano di potenziamento della rete assistenziale territoriale. Le due ASL stanno lavorando per andare verso l'attuazione del piano regionale, fronteggiando il problema della scarsità del personale. Il consigliere Andrea Fora, patto civico per l'Umbria, ha chiesto quali misure la Giunta regionale ha adottato per le imprese e le aziende per l'emergenza Covid-19 e quante risorse sono state complessivamente già erogate alle imprese. L'assessore Michele Fioroni ha risposto che il fondo Restart ha rappresentato a livello nazionale una misura di sostegno copiata anche da altre regioni ed oggi, ha detto, abbiamo in erogazione 19 milioni di euro dei 28 previsti. C'è poi il fondo Bridge to Digital, 3 milioni di euro messi a supporto delle piccole e medie imprese per efficientare la propria attività in ambito digitale. Per il ristoro delle imprese turistico-ricettive sono stati stanziati 8,6 milioni di euro, di cui 7,5 di risorse regionali. I consiglieri Thomas De Luca, Movimento 5 Stelle e Fabio Paparelli del Partito Democratico hanno chiesto all'assessore Luca Coletto se la Giunta intende ristrutturare e completare la struttura denominata ex milizia per destinarla alle cure e all'isolamento dei malati Covid-19 in modo complementare all'ospedale di Terni. L'assessore Luca Coletto ha risposto che l'immobili è di proprietà dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale ATER e ad oggi non è stato completamente ristrutturato. Mancano i lavori del primo piano, privo di impianti e finiture. Ci sono poi problemi per quanto riguarda la conformità urbanistica edilizia. In ogni caso, i tempi di completamento della struttura, gara per affidamento, progettazione e affidamento dei lavori, ha osservato Coletto, sembrano incompatibili con le azioni da mettere in campo nell'immediato per affronteggiare l'aumento dell'ondata pandemica. Ed è tutto per questa edizione di Telecrullis, il notiziario nella lingua dei segni, frutto della collaborazione tra l'Assemblea Legislativa dell'Umbria e l'ente nazionale Sordi, Consiglio regionale dell'Umbria.